Il suo romanzo è un romanzo d'amore Alleluia, perché si dice Alleluia, non Alleluia Mi ha detto Roberto che ha scritto un romanzo su una ragazza che studia l'ebraico antico Amen, perché si dice Amen, non Amen Roberto mi ha detto che ha voluto scrivere un libro su una delle nostre grandi passioni Il Kendo è l'arte della spada giapponese Il libro Storia perfetta dell'errore del maestro Roberto Mercadini È un libro che parla di Galileo e Newton, anche, e racconta di come con loro la scienza diventò un straordinario viaggio nell'universo Mi ha detto Roberto che è un romanzo sull'importanza di cambiare il proprio punto di vista E eventualmente di ribaltare la propria prospettiva Sì, sono io, Roberto Mercadini L'ho scritto io il romanzo Sì, sono vere tutte queste cose che avete sentito E voi direte, ma scusa, ma come fa un romanzo a parlare di tutte queste cose diverse, insieme? È perché è un romanzo un po' strano D'altra parte l'ho scritto io Roberto Mercadini Storia perfetta dell'errore Rizzoli 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 Grazie.